Un saluto e benvenuti in questo nuovo video salta letteralmente Fabrizio Corona e con lui anche il suo sito web Dillinger è saltato a detta sua, ieri o l'altro ieri ne parlava a Radio Radio, ha detto che troppe visual, troppi follower, troppe persone sono entrate Il server è saltato e quindi per un po' non avremmo notizie, c'è chi già pensa naturalmente che stanno cercando di zittirlo in qualche modo La domanda da farsi è come è possibile, come vi dissi io in qualche video fa, che la serie A sia in mano a Fabrizio Corona Che, come vi dissi, ripeto qualche video fa, è totalmente dipendente dagli psicofarmaci C'è qualcuno di voi giustamente, perché siamo sempre garantissimi, disse Peter però sei troppo duro nei suoi confronti, devi essere sicuro di quello che dici prima di poterlo affermare Allora, proprio per questo vi ho portato un video dove in una sua intervista lui dichiara proprio questo E poi ci facciamo un'idea su che cosa sta succedendo in tutto il mondo calcistico Che in questo momento è tenuto per le palle, si può dire, perché si parla proprio di pallone Da Fabrizio Corona, che naturalmente si tiene da fare i nomi di interisti Oppure andare a indagare su come mai il presidente dell'Inter Che è richiesto e ricercato un pochettino da tutti i giornali anche Nessuno fa la domanda su dove è finito e lui non riesce ad indagare con tutti gli amici che ha Però poi ci pensi, ha lavorato Inter Channel, è normale che certe cose non vengano fuori Ma come noi tutti sappiamo, le parole che ha detto e soprattutto il polverone che ha smosso Ha disturbato non poco anche alcuni personaggi della federazione interista di gioco calcio Uno tra questi, Gravina Gravina che si è sentito dire da parte di alcuni collaboratori Perché li possiamo chiamare così ormai i componenti della federazione interista di gioco calcio Collaboratori Di dover dare le proprie dimissioni Naturalmente è subito intervenuto Abodi, ministro dello sport Che non capisce letteralmente nulla di come si gestisce lo sport E dice che Gravina, meglio lasciarlo lì Perché basta guardare i risultati Così come disse anche Lotito I risultati servono per capire se è nel posto giusto, al momento giusto Ditemelo voi Se Gravinter è messo, dati i risultati della nazionale, nel posto giusto Ma il discorso di oggi è un altro Campionato tenuto in mano da uno che senza psicofarmaci non può vivere Andiamo a vedere la sua intervista e poi la commentiamo insieme Ma c'è anche da dire un'altra cosa Perché martedì, questo non è un silenzio che durerà per sempre Perché martedì ha intenzione su Rai 3 di raccontare tutto dopo la partita dell'Italia, della nazionale E quindi staremo ad aspettare che cosa ha da dire Intanto andiamo ad ascoltare la sua intervista dove fa le dichiarazioni che vi portai io Che giustamente non vi sono piaciute Lei ha detto la notte se non prende questa roba Tutto il mio passato entro in un mondo di incubi devastanti E se io non prendo questa roba qui, immagino gli anziolitici Mi torna tutto il mio passato Entro in un mondo di incubi devastanti E quindi sono assolutamente dipendente dagli psicofarmaci Totalmente Io ho questa roba qua Faccio un esempio Poi non posso stare fermo Ora quando ho i permessi lavorativi Vado il venerdì a fare una serata a Napoli Finisco alle 4 Prendo l'aereo alle 7 Io in quelle tre ore Provo a dormire, non dormo Vedo, ma non i mostri, i mostrissimi Che vede? Anzi, angoscia, flash, furme È come se vi messi il più grande film dell'orrore che hai Perché il tuo cervello è talmente in pappa dopo tanti anni E non si ferma mai Che se io ogni sera non prendo 30, 25 gocce di Xanax E un tavolo e mezzo E l'omiso Questo per farvi capire che quello che dicevo io era Era conscio della certezza che è la verità Ero conscio di sapere la verità E di non raccontarvi una bugia Solo perché ce l'ho con Fabrizio Corona Che io non ce l'ho assolutamente con Fabrizio Corona L'unico suo difetto è che è interista Perché poi per il resto ha due palle così Ed è l'unico che è riuscito a tenere in pugno Tante persone della politica Ed è per questo che è andato a pagare tutto quello che ha pagato Ma nonostante ciò la realtà dei fatti è questa Quella che vi sta raccontando lui Andiamo avanti Mischio con dolciumi Che sono o caramelle o ghiaccioli o gelato Perché poi il glucosio dei dolciumi con l'effetto della terapia Lo amplifica Lo amplifica Io non dormo e sto male Lei ha detto prendo pillole tutto il giorno Per allenarmi, per dormire, per stare in piedi, per fare l'amore Quante ne prende complessivamente? Non è una stronzata, ne prendo 100 in media 100 pillole in media al giorno Tra cui psicofarmaci Lasciamo perdere quelle 20 o 30 pillole che si piglia per trombare Ma fa benissimo fino a quando gli tiene il cuore 100 pillole al giorno E gli inquirenti lo prendono come un test attendibile Questo per far capire un pochettino come funziona In Italia La giustizia Stranamente, ripeto stranamente Questo personaggio non fa mai nessun nome Anzi, sono usciti i nomi di alcuni interessi Ma non dalla sua bocca E non usciranno mai dalla sua bocca Comunque eravamo rimasti a 100 pillole al giorno Quando io vi dicevo che era Un dipendente dagli psicofar Qualcuno di voi Ha pure cercato di difenderlo Andiamo avanti Ogni giorno Senta, lei ha avuto modo di vedere la sua ex moglie Poi vabbè, qua gli chiedono della sua ex moglie E a noi non ci interessa niente Questo qui era per farci capire E per farci conoscere a tutti Chi è effettivamente, ultimamente Fabrizio Corona Che cosa può fare un giorno una persona del genere Se non si prende le sue 100 pillole Per carità, la colpa di quello che gli è capitato È sicuramente di chi lo ha condannato Non so se giustamente o ingiustamente Comunque gliene hanno fatto passare di tutti i colori Ma un personaggio come questo Non può fermare la serie A Non può affermare parole Del tipo Io sto indagando parallelamente Alla IPM Ai magistrati Nessuno può indagare Parallelamente alla giustizia Assolutamente È un reato Visto che lui parla di reato Questo video serve solo per farci capire Che cos'è diventato Fabrizio Corona E che cos'è disposto a fare Pur di vendicarsi Di tutto quello che ha subito Attenzione Non distoglie questo L'attenzione dal fatto che Ci sia un grandissimo problema In serie A Ma non è quello del fatto Che i ragazzi giocano la schedina C'è da andare a vedere L'ammontare delle scommesse C'è da andare a vedere su che tipo Di Partite si scommettevano E capire se queste scommesse Possono andare poi A falsificare A falsare Un campionato Oppure Sono delle semplici scommesse Come facciamo noi Come fate tutti Per passare il tempo E per Provare un po' di gusto Nell'attesa del risultato Della partita Il video finisce qui Come sempre Se siete arrivati fino a qua Siete dei supereroi Non vi rimane che mettere un bel like Commentare con il vostro pensiero Ditemi che cosa ne pensate Su Fabrizio Corona E soprattutto Se vi rimane tempo Il fatto che Sull'Inter non esce mai niente Condividi questo video Per far sapere Il nostro pensiero Basta Ascoltare I pensieri degli altri Facciamo sentire il nostro Iscriviti al canale Se ancora non l'hai fatto E attiva la campanellina Perché è totalmente Gratuito Sarai sempre aggiornato Ogni qualvolta uscirà Un nuovo contenuto Come vi dico sempre Su Instagram Potete contattarmi in privato Peter underscore pan underscore Bianco nero Tanti di voi Già lo stanno facendo E per questo Vi ringrazio Di cuore Il video finisce qui Ciao a io